Turismo, territorio e sostenibilità. Olio turismo, ingredienti per lo sviluppo sostenibile del territorio e dei siti UNESCO. Tavola rotonda alla Camera di Commercio Treviso Belluno per affrontare la tematica dell'olio turismo come risorsa per la valorizzazione del territorio pedemontano. Noi abbiamo tante eccellenze, una di queste è anche l'olio, quindi non è la terra solo del prosecco ma è anche la terra dell'olio. Abbiamo delle piante millenarie nelle nostre colline, quindi c'è una storia alle spalle anche di questo. Bisogna riscoprire questa attività, mettere tutto in filiera e promuoverlo, è quello che stiamo facendo con questa iniziativa. Non solo vino dunque perché anche attorno all'olio che ruota una nuova idea di turismo in Veneto. Aziende, enti e Camere di Commercio della Regione unite per valorizzare l'olio anche in ottica di conoscenza del prodotto e della sua filiera. Per questo il fare rete diventa condizione imprescindibile. Camminate tra gli olivi, merende nell'oliveta, visite ai frantoi, lezioni nelle classi incentrate sulla diffusione della cultura dell'olio d'oliva. Sono solo alcune delle iniziative che l'Associazione Nazionale Città dell'Olio mette in campo. Qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, io dico invece che la cultura si mangia, si mangia quotidianamente sulle nostre tavole attraverso l'olio, attraverso il cibo, attraverso il vino. E quindi è questo che noi dobbiamo affermare come principio basilare, declinando la cultura in tutti quelli che sono gli aspetti di questa filiera importantissima per sostenere e valorizzare un territorio. Attraverso questa parola chiave che è turismo, molto complessa, si sta declinando nelle forme più importanti. Portare valore aggiunto ad un territorio affinché il tessuto imprenditoriale ne benefici. Questo l'obiettivo. I dati dell'European Travel Commission ci dicono che oggi i turisti internazionali vogliono in primis vivere gli spazi aperti e vivere esperienze enogastronomiche. Tutti gli europei anche in questa stagione, tra l'altro autunnale e invernale, più di 40 milioni di persone. Quindi queste leve che caratterizzano il nostro meraviglioso territorio possono essere valorizzate al meglio per cogliere le opportunità del settore turistico che sarà uno dei settori ancora nei prossimi anni che contribuirà in modo maggiore alla crescita del prodotto interno lordo e alla crescita degli occupati.